Sette. Sette anime umane. E il re Asgore diventerà un dio. Sei. Queste sono quelle che abbiamo collezionato finora. Capito? Con la tua settima e ultima anima, questo mondo verrà trasformato. Prima però, come tutti quelli che sono arrivati fin qui, ti racconterò la tragica... Quindi, non vuoi essere mia amica? Pensi che io, con te... Oh mio Dio, questo è troppo divertente. Beh, voglio dire, è triste per te, ma... A chi interessa? Lasciamelo spiegare in modo che un umano possa capire. Non sono come quel ramolito di Papyrus. Ha ragione! Non sono una burlona o un bimbo da impressionare. Non sono un ucciolino che ti porta avanti e dietro. No? Io sono l'eroe. Tutti i precedenti umani che sono venuti fin qui. Sei di loro i cuori. I palpitati hanno imparato cos'è la vera paura. Quindi non sono un altro compagno o un partner di crimini. Cosa sono ragazzi? Lei è l'eroe! Oh, è il magico! Guardate l'umano! Implorarmi dolorante! Oh, entusiasmante! Fermano cattivo! Io nutro i nostri sogni e correrò ogni lancia che scaglio! Perché sono l'eroe! Ehi, come va? Stavo solo pensando. Tu e io e Tandain dovremmo uscire tutti insieme qualche volta. Penso che potremmo diventare grandi amici. Vediamoci a casa sua dopo. Oh, non è fantastico? Tu scappi la tua anima e io la impalo! E lascia che ti dica il perché. Ho sempre avuto un'ambizione, uno scopo per la mia missione. Spingere le loro speranze sempre più in alto. Voglio solo questo lavoro finito. Non voglio le tue scuse o determinazione. Ti farò diventare pieno di buchi e ti offrirò un ciao ciao. Ma perché? Andiamo, indovina! Perché sei l'eroe? Bene, adesso muori. Ha 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 ha! Ha ha ha! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.